Buongiorno a tutti, oggi Allegrone Immobiliare vi propone un appartamento, un sito in pavia, la zona è quella del centro e più precisamente Porta Calcinara. Porta Calcinara si trova vicino al Collegio Valla, a Viale della Libertà, Ponte dell'Impero, Lungo Ticino, adesso stiamo vedendo un visuale della zona, questo qua è l'interno, un cortiletto con gli alberi e anche posti per mettere la bici. Come linea del bus, la zona è servita dal bus numero 6, oppure essendo in centro è anche comodo andare a piedi senza servirsi dall'autobus, la stazione dista circa 700-800 metri, quindi anche se uno non avesse la macchina si può spostare ovunque anche non servendosi dei mezzi andando a piedi. Invece per chi fosse automunito, Porta Calcinara è una delle poche zone centrali dove si trova il parcheggio con facilità. Perfetto, e dopo aver visto l'ingresso con il bagno cominciamo a vedere la stanza, diciamo la stanza che fa sia da zona giorno che da zona notte, il divano è un divanoletto, qui c'è la scrivania, abbiamo la zanzariera che qua è indispensabile, come vedete qui è un piano rialzato quindi l'immobile è ideale per chi soffrisse di vertigini. Ok, adesso guardiamo tutta la parete attrezzata con la cucina. La cucina è una cucina dell'IKEA fatta appositamente su misura per le dimensioni dell'appartamento. I fornelli sono elettrici perché essendo un unico ambiente non si poteva mettere il gas. lavatrice che di solito nei monolocali in centro è poco presente, quella è la porta che dà accesso al disimpegno e qui c'è un altro pezzo della cucina con il lavabo, con il lavandino e il mobiletto per i pensoli. Altra visuale della stanza che comunque è adatta ad ospitare al massimo una sola persona. Da notare la luminosità. Riferimento a 0036 Pavia, le grone immobiliare 339 1916 32, le grone immobiliare chiozzololibro.it, un e questo dell'immobile che c'è e richiede altre offerte su bilocali pavia.it. Grazie.